La confusione politica delle ultime settimane propone novità quotidiane, molte chiacchiere da bar, condite da colori spesso dalle tinte forti e altrettanto spesso non rispondenti al vero. Per le prossime regionali di maggio vengono avanzate candidature di questo o quell'altro politico sia sul versante destro che sinistro. E mentre il Partito Democratico non ha ancora scelto chi sarà il suo rappresentante e candidato presidente, la corsa per Palazzo Santa Lucia riguarderà a destra certamente l'uscente Stefano Caldoro, per il quale arriva l'appoggio incondizionato del sindaco di Scafati Pasquale Aliberti, con Forza Italia, che smentisce però le voci di una sua possibile discesa in campo. Più probabili che si candidi al Consiglio regionale la consorte Monica Paolino, già titolare di uno scranno. Precise le parole di Aliberti, fino al 2018 ho un impegno con la mia città con Scafati, è l'ora di far fruttare ancora più tutto l'impegno profuso negli ultimi anni, ha detto tra le altre cose. Io ho un dovere nei confronti della mia città che mi ha eletto o rieletto sindaco e questo dovere e questo piacere scade nel 2018, è una data assolutamente lontana. Le cose da costruire nell'interesse della città sono ancora tante, gli obiettivi da raggiungere, soprattutto vorrei portarli a termine. Chiaramente il mio sostegno per le elezioni regionali sarà per il centrodestra, per Forza Italia, questo è certo, ormai lo faccio da 20 anni, e per Caldoro, che credo ha operato bene, perché ha operato in una situazione di grandissima difficoltà, mettendo in campo anche azioni antipopolari per risanare i debiti della regione. Adesso, nei prossimi cinque anni, finalmente c'è la possibilità di poter fare programmazione, credo una chance o la chance, bisogna ridarla a Stefano.